Abbracci, sorrisi, scambi di auguri. Un palasport di Chiarbola Gremito ha accolto anche quest'anno la festa per la fine del Ramadan, uno dei momenti più importanti dell'anno per i musulmani che chiude il mese lunare del digiuno. Finisce il mese molto importante della comunità musulmana, dove appunto si è digiunato durante il giorno, dove si è pregato anche durante la notte. E appunto oggi è una grande gioia per loro perché si interrompe questo digiuno. Un'occasione che richiede l'abito della festa e che riempie di gioia adulti e bambini, una tradizione che vuole riunita quando possibile l'intera famiglia. Si sta insieme, ci si unisce fra la famiglia e si trova una grande gioia, soprattutto per i piccoli e per i grandi anche. L'imam della comunità islamica di Trieste viene dal Marocco, ma sono ben 28 le diverse nazionalità dei musulmani che vivono nella nostra provincia. Un arcipelago composito ma unito. Sì, devo dire che questa è una virtù di questa città che è Trieste, perché raccoglie veramente tante provenienze dall'Europa dell'Est, dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa stessa, veramente da ogni parte del mondo. E grazie a Dio veramente c'è una coesione, c'è un'intesa, veramente non vista da altre parti. La comunità senegalese in particolare ha ricordato con commozione il giovane connazionale Mamadoussi, morto in un incidente in bicicletta la settimana scorsa. Alla festa di oggi hanno preso parte anche rappresentanti di comune e province e di altre confessioni religiose. Il prossimo appuntamento fra un paio di mesi con la celebrazione del sacrificio.